Gentili telespettatori dei prelagonisti in compagnia di un'attrice regale, raffinata, delicata nelle linee, siluosa, lei la verrazzana, Giorgia Vorto. Ciao e benvenuta. Ciao, grazie, che presentation. Senti, quinta edizione della gara del Cimera Fiction che ti vede in veste di madrina, no? Quanto è importante valorizzare in tema audiovisivo le bellezze archeologiche, artistiche e culturali in questo territorio tanto bistrattato? E' importantissimo, estenderei un po' il discorso a tutta l'Italia, il paese del mondo più ricco, Napoli e la campagna, insomma, soprattutto, quindi non facciamo cadere a pezzi il nostro territorio perché se perdiamo anche quello veramente non ci rimane più niente visto che siamo un paese che viviamo di rendita, insomma, grazie al nostro passato, per cui tutto quello che il cinema può fare benvenga. Tu ti sei dimostrata anche estremamente versatile, appunto, nelle tue interpretazioni, no? Molto interessante è stata appunto quella di Ilona Staller, la miniserie Moana. Ti è piaciuta. So che grazie a internet si è riuscita a impersonarla anche molto bene, no? Anche tramite il linguaggio. Sì, beh, ho studiato il personaggio di Cicciolina grazie ai video che ho trovato su YouTube, su internet. Sì, è un grande archivio, è estremamente accessibile e per studiare personaggi reali è molto utile, sì. So che prima ti consideravi un'eterna seconda, no? Nei provini, anche con gli uomini. Eppure la tua carriera, vista l'ascesa che hai fatto, va in contradirezione, anzi, bisogna dire che oggi primeggi anche in ruoli otto, no? Penso alle tre rose di Eva, per esempio con Tessia, no? Si può dire che oggi primeggi in lungo e in largo? Ma no, dai, insomma, cerco di studiare per provare ad essere più o meno sempre all'altezza. Poi non so se ci riesco, ma diciamo il mio obiettivo è cercare non di avere dei picchi, degli apici, ma di restare sempre a galla, che sarebbe già un grande traguardo, insomma. Mi piacerebbe invecchiare lavorando. Ti senti ancora lunatica, insicura? Sempre di più, sì, molto. Sono molto insicura, non mi sento appunto mai all'altezza delle cose, non mi sento mai preparata abbastanza, però cerco di usare questa debolezza anche per i ruoli che faccio, cerco di farli passare non come le insicurezze di Giorgia, ma come le insicurezze dei personaggi che sempre hanno, perché sono umani, insomma, li umanizzo. Sempre ancorata alle vecchie abitudini, vedi lo stesso profumo, il piumone sul divano. Perché ti ricordi, avevo questo profumo qua? Sì, da allora, sì. Da allora, eh, ti ricordi? No, in realtà no, i profumi, guarda, li cambio sempre, anzi, quando vado in aeroporto, passo alla profumeria, ne spruzzo uno, sai, i tester, e vado avanti per due giorni con quello. E il piumone invece, sì, c'è sempre, l'ho sempre lo stesso, ogni tanto lo lavo. Senti, mi ho saputo che ti piace il pesce crudo e il caffè amaro, mi spieghi come fai. Ma chi te l'ha detto? Ho saputo. Sì, il caffè mi piace senza zucchero, ristretto e possibilmente quello napoletano lo apprezzo molto. E il pesce crudo, sì, insomma, mi piace crudo, mi piace anche vivo ogni tanto, insomma. Un'infaticabile maratoneta, la fai ancora, corri ancora la mattina ogni tanto? No, io non ho mai corso, forse, no, non ho mai corso, anzi, odio correre, sono fighissima. Senti, io so che hai dichiarato che sei una traditrice incallita, ma è vero? No, 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 non è vero. Ho detto che l'essere umano per natura, diciamo, non è monogamo, distinto. È una scelta di comodo? No, è una scelta di comodo, nel senso che per convenzione sociale si è scelto un modello di coppia che teoricamente, almeno in teoria, prevede la fedeltà. Non sempre la ottiene, ma io, no, anzi, adesso sono, no, no, non sono una traditrice. No, perché sennò mi preoccupavo, anche se non state più insieme, per Fausto, no? Guarda, niente, Fausto Coppi è morto tanti anni fa, per cui, insomma, anche volendo non potrei tradirlo. Senti, nei prossimi palinzesti, dove ti vedremo, il set che accalterai? Guarda, sto girando adesso un film con un attore che stimo moltissimo, che è Giancarlo Giannini, siamo, arrivo proprio adesso da Venezia, dove stavamo girando, e poi uscirà una commedia, si chiama Una notte agli studios, con la regia di Claudio Insegno, è un film, sempre al cinema, oggetti smarriti, di Giorgio Molteni, lo sapete? In ultimo, il complimento più bello che ti piace ricevere? Ma a me piace tanto, non so, quando, mi piace molto l'aggettivo intenso, non me lo dicono mai, però, ecco, magari... Sei intensa e espressiva? Grazie, grazie, soprattutto tu spontaneo. La trasmissione, siamo i protagonisti, il tuo saluto a chi ci sta guardando? Sì, ciao protagonisti, anche se, insomma, nella vita le comparsi hanno la loro grande importanza, anche i ruoli secondari. Grazie.